Un saluto a tutti gli amici e lettori di AZA Informa, siamo insieme ad Angelo Ciminelli, sindaco di Ovindoli, in occasione di una giornata importante dedicata allo sport e al ciclismo. Quanto è importante lo sport per questo territorio e per Ovindoli? Ovindoli è sempre stato sport e natura, quindi noi abbiamo da subito sposato in pieno tutto, questi tipi di sport e quindi vogliamo soprattutto incentrare oltre ai sport invernali anche i sport estivi che si fanno in altri periodi come la bicicletta e abbiamo da subito sposato in pieno la giornata mondiale della bicicletta. Ci avviciniamo al periodo estivo, quello comunque importante dal punto di vista turistico per questo territorio. Quali sono le iniziative che già possiamo rivelare alla stampa e a tutti i nostri amici? Abbiamo appena fatto il calendario eventi di giugno, di cui questo è il primo evento, ci saranno dei eventi anche a luglio, ad agosto chiaramente e a settembre, perché la nostra politica è quella di allungare sicuramente la stagione estiva. Ci saranno dei sport anche culturali, scusate, degli eventi anche culturali, oltre che di sport, musica diciamo nelle serate di agosto e tanto altro che non possiamo adesso rilevare. Qual è il consiglio che vuole dare al turista che si avvicina appunto a questo territorio? Il consiglio è di vivere ovindoli a 360 gradi. Ci sono tante attività, tante cose da fare e quindi informatevi. Abbiamo adesso da poco riattivato il punto di informazione e accoglienza turistica. Abbiamo dei ragazzi che saranno incentrati proprio nell'informazione e l'accoglienza turistica per tutto questo periodo, già da questo weekend e dai prossimi weekend per poi nel mese di luglio-agosto tutti i giorni rimanere aperti con l'OIAT. Vi dico che sono molte le aspettative che vi riservano. Ovindoli è pronta ad accogliervi, ho parlato con gli operatori turistici, anche ricettivi, anche le agenzie immobiliari, c'è molta richiesta e quindi siamo fiduciosi di affrontare una buona estate. Ovviamente tutto questo nel rispetto della natura? Ovviamente, ovviamente. È un punto cardine del nostro mandato e della nostra amministrazione e io mi auguro, insieme agli altri colleghi, di incentrare Ovindoli come l'altopiano delle Rocche in un turismo ecosostenibile importante nei prossimi anni. Grazie. Grazie a voi.